Colletti bianchi e nonni in manette tra luglio e agosto del 2011, linea d'ombra e settimo cerchio e la denominazione dei due filoni d'inchiesta che avevano scosto dalle fondamenta la città di Pagani, portando dietro le sbarre figure eccellenti e non, a partire dal sindaco più amato d'Italia Alberico Gambino. Intrecci pericolosi, avevano detto gli inquirenti, tra politica, imprenditoria e camorra, era il 15 luglio quando l'operazione dei carabinieri della locale Terenza sconvolse la città di Sant'Alfonso, portando in carcere l'ex sindaco consigliere regionale PDL Gambino, con lui il consigliere comunale Giuseppe Santilli, il presidente della squadra Azzurro Stellata Raffaele Trapani, il vicepresidente Franco Marrazzo, l'architetto capo del comune all'urbanistica di Palazzo San Carlo Giovanni De Palma, Antonio e Michele Petrosino D'Auria, quest'ultimo dirigente del consorzio di Bacino Salerno 1. A un mese la seconda ondata di arresti, nella rete Giovanni Pandolfi Elettrico, presidente della Multiservice, l'ex carabiniere Guido Cutolo, l'ex assessore Massimo Quaratino, il direttore del centro commerciale Pegaso Giovanni Barone, Antonio Fisichella e il direttore dell'Asi di Napoli Angelo Andrea Falcone, poi completamente prosciolto. Pesantissime le accuse. Voto di scambio elettorale politico mafioso e concussione aggravata dall'articolo 7 per aver agevolato le attività criminali del clan D'Auria Petrosino. Il blitz di luglio era scattato all'alba, mentre l'intera città dormiva. In silenzio, senza distare sospetti, senza sirene, i carabinieri del tenente Marco Beraldo avevano messo a segno 7 ordinanze di custodia cautelare. In caserma politici e funzionari del comune. Incredibilità e stupore sul volto di una città colpita a morte. Incredibilità e stupore che hanno accompagnato le altalenanti vicende propedeutiche l'avvio del processo, in particolare la concessione dei domiciliari da alcuni inquisiti illustri e poi la revoca del beneficio. Ieri l'ultimo colpo di scena. Nel calderone degli indagati finisce anche l'ex facente funzioni ed attuale consigliere provinciale Salvatore Bottone, che dopo l'interrogatorio davanti ai PM della DDA risponderebbe di omissioni di denuncia relativamente, pare ad appalti ed affidamenti. E poi l'avviso di garanzia notificato, sempre nella giornata di ieri, alla segretaria comunale di Palazzo San Carlo, Ivana Perongini, per la quale i pubblici ministeri dell'antimafia hanno configurato il reato di subornazione nei confronti di periti e testimoni. Da oggi la parola alla giustizia.